E' stato trasferito dall'ospedale Torrette all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona il tredicenne pesarese che sabato pomeriggio è precipitato per quattro metri dopo aver rotto un oblò in plexiglass del tetto della palestra del liceo Marconi. Tetto in cui il ragazzo, studente della scuola media Manzoni, si trovava assieme ad altri minori per una presunta attività di parkour, ovvero la tecnica acrobatica metropolitana di salti fra edifici e muri. Questo quanto dichiarato alla polizia da alcuni dei ragazzi intercettati dagli agenti che seguono le indagini. Minori che avevano subito avvertito i genitori dell'amico ferito accorsi sul posto nella giornata di sabato. Il tredicenne in questione attualmente non risulta in pericolo di vita. Era già vigile sabato al momento dei soccorsi e risulta attualmente ricoverato in prognosi riservata ma sembra abbia superato la fase critica. Ha riportato frattura a una gamba e una compressione della cassa toracica. Restano però le riflessioni sui gesti sconsiderati e pericolosi di salire su tetti che non sono nuovi al campus. Già cinque anni fa la polizia intervenì per simili situazioni ed è un caso in cui non ha responsabilità il liceo Marconi sul quale esistono diversi punti d'accesso alla struttura anche alle parti alte dell'edificio. La provincia, proprietaria dello stabile, aveva già potenziato il servizio di telecamere nell'area. Una videosorveglianza che è attualmente sotto esame per chiarire tutti i contorni della vicenda.